Dalle loro fantasie, ovviamente partendo dalle basi classiche di pasticceria, di semi freddi. Hanno comunque composto il semi freddo partendo proprio dalle loro idee. Quindi c'è stata mediazione, progettazione del dessert, fatte loro da... Forse semplicemente quello che vi farò è assaggiare e mangiare in modo un pochino diverso. Di essere un po' internazionale. Il freddo, che vi ho dato il nome rinascito primaverdine, che rinascita, 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 terra e verde di miele, cerebro e l'unione di rinascita. La torta, forse semplicemente quello che vi farò è assaggiare come prima cosa, quindi, sui bicchieri. Ok? Quindi, l'inserti... Comunicazione del prodotto, 4,20, 22 minuti. Quindi, rinascita da un testo. Grazie. 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 Da. Bene. Semplicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo fatto una base al biscotto, anche questa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.